ciao appassionati e benvenuti sul canale famiglia emilton orologi non solo la puntata di oggi è dedicata alla nostra collezione di orologi russi sono b50 che li vedete tutti qua prima di cominciare vi ricordiamo una cosa importante se il video vi piace mettete un bel like iscrivetevi al canale a voi non costa nulla ma per noi è molto importante per darci comunque forza nel continuare a vedere gli iscritti che significa che vi piacciono i nostri contenuti e se volete rimanere sempre aggiornati cliccate la campanellina così arriva la notifica sul telefono tutte le volte prima di partire con gli orologi vorrei spendere due parole in merito ad un libro molto interessante che mi ha aiutato in questa diciamo collezione di russi questo libro che è molto interessante orologi russi da collezione io ringrazio veramente gli autori di questo libro perché hanno creato un qualcosa di veramente formidabile è un libro molto veloce da leggere da tante informazioni è fatto molto bene da anche informazioni come riconoscere i calibri come riconoscere i fake da quelli originali davvero complimenti agli autori prevetto non c'è nessuna collaborazione con loro è solo un omaggio che io voglio fare loro perché li ringrazio per questo contributo perché si parla sempre di studi che loro hanno fatto e vogliono condividerli con noi appassionati quindi noi possiamo andarlo ad acquistare a un di copertina di 35 euro su amazon mi sembra che gira intorno alle 32 33 sotto metterò il link in descrizione non per alto ma solamente per comodità nel momento che volete voi volete acquistarlo quindi potete cliccare lì andare direttamente sul libro e ve lo consiglio molto se siete appassionati di russi ora passiamo agli orologi vi dico già i primi 4 saranno solamente storie storie dell'orologio perché mi è arrivato perché sono cose molto importanti perché l'orologio tramanda una storia e parte da lì la mia passione dei russi quindi vedremo che parte all'età di circa 7 anni dopodiché gli altri molti di questi utilizzerò al libro per andarveli a spiegare meglio quindi nei primi non vi parlerò di calibri ma solamente della storia vediamo il primo quello a cui sono particolarmente legato questo qua è stato il mio primo russo preso l'età di 7 anni più o meno mio padre mi portò al bar con lui ai tempi c'erano delle macchinette mettevi 200 lire usciva una pallina dentro c'è un foglietto con un codice potevi vincere qualcosa e io ho vinto questo questo fantastico comandischi è stato il mio primo russo carica manuale ai tempi veniva dato senza cinturino senza niente è rimasto nel cassetto perché tempi a me piacevano i casi non non è ricarica manuale comunque passiamo al secondo passiamo a questo fantastico racchetta calendario il magazziniere della ditta di mio padre andrò a fare un viaggio in romania quando tornò gli regalò questo orologio anche questo ai tempi era senza cinturino quindi li vendevano proprio così a me piaceva molto mi piaceva il colore del quadrante poi questo calendario che potevi vedere vedere le varie date è una cosa molto curiosa quindi mio padre lo regalò me e da lì è sempre stato con me sono gli orologi a cui sono più legato dei russi tranne uno che arriverà tra poco giallo e capirete dopo il perché poi facciamo un bel salto nel tempo da lì gli orologi russi non mi sono più interessati e lo ripreso molto più avanti con questo anfibia carica automatica bello orologio l'ho sfruttato tanto sono felice passiamo a questo orologio al quale sono molto legato questo orologio in realtà nasceva così con questa ghiera qua nera poi ho innamorato di quello tutto giallo quindi con tutta la ghiera gialla è che non facciamo senza data per me la data è una cosa importantissima e quindi acquista anche questo anzi non acquistai nulla perché questo qua è stato il primo regalo dalla pamela per il mio compleanno quindi da quando ne siamo insieme è stato proprio il suo primo regalo e quindi ci sono molto affezionato è uno degli orologi più importanti che ho in collezione adesso andiamo a vedere questo admirasky cassa in titanio calibro 24 166 diametro 43 degli anni 90 qui sotto abbiamo tutta la descrizione ecco l'importanza del libro ed ecco l'orologio scusate la pronuncia non sono russo quindi comunque bello orologio passiamo questo anfibia bello poi un bellissimo bracciale devo dire questo qua è abbastanza di fabbricazione recente l'ho acquistato mercatino quindi non nuovo ma funziona alla grande i due arachetta copernico bianco e nero questi qua non sono miei sono della pamela orologi molto particolari molto diciamo sfiziosi da indossare l'indossa sempre con molto piacere poi troviamo anche questo racchietto piccolino è una cassa piccola però molto simpatico comodo a indossare troviamo poi un altro racchietto sempre piccolino col datario carino simpatico abbiamo questo particolare progetto con cassa stile helmet una cosa fantastica ci piace molto abbiamo questo racchietto molto elegante davvero molto elegante molto sottile un bello orologio ecco la collezione di slava della peristorica li ho quasi tutti mi manca solo un modello che questo qua sempre ringraziando il libro hanno questi quadranti originali simpatici dai carini non li ho mai utilizzati come vedete hanno tutto il cinturino con ancora la fibbietta come quando li ho acquistati li ho mantenuti così racchietta big zero di questi io due il calibro è un 26 09 diametro cassa 39 degli anni 80 90 di questi due sono orologi iconici da avere in collezione sono a carica manuale ovviamente poi passiamo questo fantastico svegliarino questo quadrante sembra full loom ma non è full loom però molto particolare mi piace molto racchietta marine con suo cinturino originale scatole tutto calibro 26 23 h un diametro di 40 l'orologio più che iconico per appassionati di russi c'è davvero in collezione di questo anche un'altra versione che ci assomiglia ma più che altro per i turni di guardia che andavano le zone blu le zone rosse e poi altri 3 24 ore che cambiano comunque i paesi del mondo non so se si vede dalla telecamera comunque le ore del mondo cambiano come racchietta 24 ore o anche questo è un fake ve lo dico subito ve lo mostro perché perché da 24 ore non ha mai il datario quindi non esiste in più se andiamo a girare vediamo che gira in 12 ore e non in 24 è un fake l'ho acquistato però vabbè cinturino e originale c'è anche la scatola e tutto l'avevo pagato una stupidata l'ho preso giusto giusto così e lo tengo in collezione perché è anche strano che andavano a creare dei fake su degli orologi tra parentesi molto economici vi mostro un altro recchietà calendario perpetuo con il calibro 26 28 h questo orologio mi è stato regalato da un caro amico e ci tengo particolarmente appunto per questo me l'ha regalato nella sua scatola non era completamente funzionante l'ho rimesso a posto infatti funziona e son felice davvero in collezione poi ricordo comunque di un amico ora passiamo a questo boc toc ancora la pellicola attaccata non l'ho mai utilizzato e questo qua me ne è arrivato uno con la cassa che era difettosa il venditore mi ha spedito il secondo lasciandomi l'altro il movimento l'ho utilizzato su un altro orologio questo quasi può dire che non l'ho mai indossato ecco lo tengo in collezione così altro uso marca soviet ccp molto carino carica manuale è un bel orologino ed ecco un bel pezzettone desert shield operation questo qua è un orologio che mi è stato regalato da un grandissimo amico morizio minelli e lo ringrazio tuttora è davvero fantastico è un orologio molto molto iconico e molto ricercato e sono contento di averlo in collezione grazie a lui poi c'è questo boc toc automatico con tutto in indice rilievo addirittura anche la scritta molto carino poi ritroviamo tutti questi comandischi per il mercato italiano e li ritroviamo tutti nel libro il calibro è il 24 14 uno più bello dell'altro il diametro è 39 questo qua un bel po virato e questo invece si fa parte di questa collezione ma il quadrante è tutto spider e più diciamo è stato molto moddato da me perché è stata cambiata la ghera il cinturino l'ho fatto io personalmente quindi un orologio al quale sono particolarmente legato giusto perché ho fatto tutto io si può dire tutto l'orologio in questa maniera poi troviamo sempre questo comandischi bbc particolare e carica manuale bello qua abbiamo due bei vostro comandischi della vittoria col calibro 24 14 ne abbiamo due i modelli sono questi quindi sono cinque io ho solamente due ma sono sono felice di averli sono tutte e due anzi un automatico uno è a carica manuale lo possiamo notare benissimo dal fondello quindi anche il calibro cambierà poi ritroviamo anche questo fantastico su maschi type 2 quindi il calibro il 26 34 lo so le sfere non sono originali per come si può vedere anche dalle foto il 40 sembra cosa particolare di questo orologio alla kinder secondi quindi nel contrario di tutti i russi quindi il calibro è completamente originale sul resto l'orologio la casse tutto sembra tutto corevo le sfere vi dico già che non lo sono comunque un orologio abbastanza raro e come sempre sto maschi anche questo qua molto carino militaresco un orologio simpatico da mettere molto comodo poi abbiamo questi tre nos erano per il mercato italiano infatti guardate hanno ancora il cartellino ma indossati sempre tenuti così sempre di questa serie andiamo a vedere anche due bei crono ecco qua i crono fantastici col 31 33 adesso partirà la carrellata dai 31 33 e saranno gli ultimi siamo arrivati alla fine del video qui troviamo due bei cronografi classici classici in cassa tonda col 31 33 e l'altro invece con la scritta cronografi che era stata ripresa dopo ed eccoci arrivati agli ultimi due due bei polgiot cronografi in mirabiglia col 31 33 fantastici uno più bello dell'altro tutti e due col bracciale addirittura questo è il suo bracciale originale sono orologi davvero molto belli da portare e danno molta soddisfazione eccoci arrivati alla fine del video il bello dei russi che sono orologi divertenti non sono costosissimi sono abbastanza abbordabili poi se girate mercatini e tutto li trovate a prezzi veramente non dico irrisori ma accessibili spesso poi li troviamo magari anche non funzionanti ma i movimenti sono veramente dei muri quindi una pulita o che cosa riescono a ripartire a darvi soddisfazione comunque avere un orologio meccanico al polso con diciamo pochissimi soldi ed è per quello che io quando ero partito con la collezione dei meccanici ero partito proprio con questi e anche quando ho iniziato a metterci un po' mano a cercare di fare qualcosa negli orologi l'ho fatto appunto con questo perché comunque non avevo la problematica delle parti di ricambio che magari mi andavano a costare più dell'orologio di quello che avevo pagato quindi riuscivo con 5 euro veramente a risolvere i problemi quindi li consiglio a tutti come consiglio anche il libro perché è veramente molto interessante l'avete notato nel video che comunque tante volte l'ho utilizzato per andare a spiegare quello che era l'orologio bene siamo arrivati proprio alla fine vi ricordo come ho detto all'inizio se il video è piaciuto mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale che voi non costa nulla ma noi serve solamente per capire che quello che noi facciamo a voi piace e quindi siete interessati a vedere altri video e se volete rimanere aggiornati spuntate la campanellina così vi arriva sempre la notifica ciao a tutti